Belli cantari bentornati, qui Yoshi e oggi siamo qui con i primi TOTS, quindi il TOTS community e il TOTS della EFL Allora che dire, io onestamente non so proprio entusiasta di questa prima settimana i TOTS per semplice fatto che hanno lasciato come al solito le cose a metà Tu mi dirai perché? Perché sono meglio i birdie? Perché i birdie sono meglio? Perché tu con i birdie upi tutto quello che manca, dalle STOTS fino a piedi debole e skill Che a quanto pare, chi sta presto a sto cazzo del gioco non ha ben capito che sono fondamentali per l'utilizzo di un giocatore Perché se tu mi fai sto giocatore e me lo lasci 3-3, ma io a aprile, a maggio, con uno che è 3-3, ma che cazzo ce devo fare? E' quello il discorso, la base, cioè se tu c'hai una carta buona, già di base tua, vedi Zielinski, allora diventa una carta comunque sia utilizzabile E' una carta che tu poi effettivamente dici, vabbè, la proviamo, magari è forte Ma io questo, a me questo non mi ha manco voglia di usarlo Cioè io 3-3 lo posso usare a Bardi, inizio il gioco e sparare a Yemfield, non t'annaccio dritto Ma a aprile, già visto che stanno tutti dietro, ma due skill le loro fanno Ma pure aveva la possibilità di giocare col piede debole del giocatore mio, con 3 in se poi muove E manco c'è, cioè, capito, voglio dire, me fai la carta, ha bustato un stats E poi però non c'è, poi manco, c'è tutti i 99, c'è tutti i 99, c'è tutti i 99, usavo un terzino centrale di difesa Pure con 99 di difesa, cioè, un po' posto livello Beh lui mi fa troppo, lì te ne piace troppo, raga Cioè c'è sto occhialetto, taglia figo Ma quanto, quindi, cioè ti posso dire, i prezzi per carità sono pure contenuti Cioè Ken quanto costa al momento? Ken 80.000 crediti Però non lo userei mai Però tu vuoi mettere, taglia figo, no? Che taglia figo, questo me lo farei Perché te metti così in campo con lui Piazzi l'occhialetto Io poi ti dico, capito, non ho mai visto un occhialetto in campo Non lo so quando cazzo si è messi Però è inevitabilmente un giocatore che Proverei solo per Pensa, ma tu pensa se c'ha pure l'occhialetto in game Costava un milione e mezzo, era estinto Pensa con l'occhialetto in game Unico giocatore, Edgar Davis diventava Pensa che mina Comunque no, vabbè, taglia figo L'unico problema è che pure lui è 3-2 Stelle di skill e piede debole Non le hanno minimamente uppate o toccate Quindi rimane un giocatore che è forte Però è sempre limitato È uno che pure che è 1-72 Dica la verità, forse costo Work rate, come proverei qua ancora difensore centrale Tanto ormai è diventato così I tersini sono i centrali difensivi Perché tanta gente ha forse sparafirtanti Se serve la gente che corre all'infinito Poi che è uscito? Balei 330k Questo è bello Io questo sono curioso di provarlo Veramente una bella cartina 4-4 Work rate, trades Stats di Cristo Il problema è 1 Jamaicano Della Leverkusen Quindi tocca pure i Britall in un certo modo Anche perché tipo pure in un 4-5-1 Giusto con quel Bender Terzi Mucchiele Il nuovo che è uscito Il Toz E poi lo chiudico con un altro La Bundesliga Volendo un Q Un Q Però insomma A livello di Link Diciamo che non è il massimo Sto un Q Un Q pure Me l'hai lasciato Medio-medio Che è un work rate Un po' così Me l'hai fatto 4 le skill 3 di debole Com'è il base Con 10 di overhaul E quindi uno rimane sempre Sempre un po' così Che dici Sì carina sta carta Però Quanto costa un Q Un Q Costa 200.000 Che se fanno pure spendere Per provare Vede un po' come sarà il giocatore Per carità Secondo me Sa pure buono Perché poi guarda Poi c'ha pure il tiro all'esterno De precisione Dribblate C'è un bel po' di cosette Questo magari Lo provi Vi posso dire L'ho ad occhiato per Uno switch da terzino Estremamente offensivo Che sale a stecca Oppure da Una mezzala Ne rombo Ci potrebbe stare Anche con il 3 de debole Comunque le stazze C'è là Gli metti Pure ombra Volendo Per bustare La difesa Ma pure in un centrocampo Poi tocca Avete sempre come la cpu Perché poi penso Non sia Beh un 80 Penso un po' più piccolo Ecco questo Io questo Per ditte Mediano Nel rombo Mo giocherei Mediano sì Mezzala no Pure terzino Uguale Tanto questo C'ha una corsa tutta strana Con 91 accelerazione Non è mai vero Che c'ha 80 de sprint O metti in campo Fa le buche Fa Questo costa 400.000 Ma ti ripeto A livello di giocatori Più o meno ci siamo Però Tipo il senso De fammi uscire questo Il senso pure De mettere Te dico Questo insomma Sarà mezzo albero Mezzo al campo Però sì Poi alla fine Se ci pensi Quelli della serie B Più che altro Quelli dell'altro team Sono Tutti Tutti boostati Poi tutti 3-3 Io Non è per niente Ma chi cazzo Usa Ci vanno E pure C'è sta uno E c'ha tutti 99 Poi c'ha 83 De dribbling E 3-3 O 3-4 Sì ma Raga Capito Sta albero piantato Il teval verde Per renderlo comunque Che sta a un milione Per renderlo Un giocatore Utilizzabile Gli hanno messo Questo Gli dovevi arsa O a 4 Debole O a 4 De skill E effettivamente Il 4 De skill Gli hanno piazzato E è diventato Molto interessante C'è questo adesso Col 4 De skill Pure mezzalana E rumbo Mamma mia Che è stato Pure mezzalana E rumbo Me lo sparerei C'è un cartone C'è un cartone C'è la verde Con Mendy e Varane Tanta roba Molto simpatico Poi che è uscito Mambissaga 6,70 Per me non so Mambissaga C'ha una carta Fa paura Sto Mambissaga 4 skill Dove debole Questo per me Molti Cioè questo potrebbe Essere l'upgrade Da James Quello che Il TD Futurstar Che si usava DC Lui potrebbe Essere Lo step Successivo Non è pure Terzino Cioè questo Questo può giocare Veramente ovunque Cartone Cartone Che poi Mambissaga Uscì DC Qualcuno L'aveva provato N'era niente De che a livello De velocità Però l'avevo DC Più c'è stava Una buona cartina Pure lui Certo Do fanno pagare Poi è uscito Golson Golson C'ha la tripla Con Kent La tripla Con Tavernier E la doppia Con Edward E pure Questo Te posso Di Questo proverò Settimana prossima In Weekend League E poi sicuramente Verrà rispolverato Per quando uscirà Tavernier Il problema Che uscirà Con il resto Del mondo E il resto Del mondo Significa Settima settimana Di Tots Quindi La voglia Prima Che vediamo Però Areola 91.000 Crediti Questo Lo provo Cioè onestamente Per base Uno dei portieri Che mi sono trovato Meglio Pure contro È solido Per essere solido È poco forte Quindi Niente Areola Regà Mo comprerò Tanto Spesso Giochi Occo Magari In Icona O riesci A incastrar Volentieri Sicuramente Popeye Rimane sempre Il dio Dei portieri Che potrebbe uscire Pure Tots Settimana prossima Poi Alaba Ti hanno sparato 960.000 Crediti Di difensore centrale Però Però Guarda che carta Guarda che carta Che c'è Alaba Che poi Alaba Per ditte Uno potrebbe Fa tutto Uno switch Esotico Cioè Ti fai tipo Alaba Mucchiele In Cuncu Con Alaba Che va a fare Mediano Mucchiele Il centrale In Cuncu Urterzino È tutta una cosa così Quanto mi piacciono Gli switch E Alaba Alaba Veramente bello Completo Dribbling C'è tutto Ciò Sarei curioso Vede com'è in game Più che altro Comunque Costa Mioncino È il più costoso Del team Però Questo Una bella svolta A livello Dell'Inc Perché c'è Sta poi Davis Totti Kimmich Totti Diciamo che Può fa pure Il triangoletto Con Davis E Kimmich Totti E chiudi così Secondo me Sto Alaba Centrale Spigne Sia centrale Sia più alto Anche perché C'è tutto Quello che poi Pure per fare Mezzala Per ditte Parte il 70 Di finalizzazione E poi Mucchiele Mucchiele Il rule Io mi ricordo Il rule breaker Che regalarono Era una gran carta Specie nel momento In cui ero ucciso Era una grandissima carta Di conseguenza Mi avrebbe da dire Mamma mia che mal di panza Mi sa che già so Cosa farò a fine Di questo video Mucchiele Ti posso dire Giusto il 3-3 Magari un 87 Medio-medio Lo piazzerei Difensore centrale Perché poi è gigantesco E lui effettivamente Mezzo faceva pure Il centrale Di difesa Poi è uscito questo Questa secondo me È la carta più bella Del team Io hanno uppato Da 3 di skill A 4 di skill Barnes E lo vorrei Effettivamente Cioè C'ha tutto C'ha tutti i 99 Ma che cazzo Gli devo dire Questo lo voglio Assolutamente provare C'ha pure Mi fai caduto Che non c'ha classe Dribblatore veloce Però Tanta roba Questo costa Barnes costa 600.000 Crediti Mucchiele 380 Barnes 600.000 Interessante L'unica cosa È S Come al solito No poi in premier Usciranno Rashford Uscirà Son Quindi insomma Ci hanno un po' Dei concorrenti Però Edouard 90.000 Crediti Cioè Tu guarda che carta Questo Questa prossima settimana Sta già nel team Poi Classe Tribblatore tecnico Tiro dei pricci C'ha tutto 4-4 Costa 2 speech Ilicic Ce l'ho detto Cioè Non è bruttissimo Ma costa 90.000 Crediti Costa veramente poco E Non lo so Mi ricordo pure L'anno scorso Ertozzi in campo Faceva una fatica Clamorosa A Movese E' proprio Un arbero Zielinski Zielinski Bello Non ho capito Perché gli hanno arsato 3 punti Solo la difesa Quando Ndombele E' arrivato Da 70 A 83 Potevano fargli Un pochettino Di più Visto che poi C'è la stessa difesa In Kunku Kunku Praticamente gioca punta Questo gioca Sì gioca Di a 3 punte Ma insomma Gioca 3 Gioca proprio Mezzo al campo Sicuramente Da 73 Ma potevi far Diventa proprio Gullit Gang Onestamente Però C'è una bella carta E' da provare E lo proverò La prossima settimana Vi faccio pure il team Che ho buildato La prossima settimana Corriere ragazzi Obiettivi C'è poco da dire Cioè questo Se prende Se porta a casa 90 doverò Il te piace Usi Super Sub Usi titolare Se fionda dentro Un builder 90 Non si fa scappare Chi è ssbc Dal costo sui 220 230 240 Mila crediti Sta sui 197 Sembra una buona carta L'unica cosa In R3S Però c'è link Con Ronaldo Tripla con Bernardeschi Birday Link con belle carte In realtà io Io me lo sparo Probabilmente me lo porto Proprio nel saccocciore Diamo un'occhiata Rapidissima Al secondo team Che è il TozFL Dove ti posso dire Non mi piace nessuno Cioè ci sta lui Che Super Sub Con 4-4 Potrebbe essere mezzo onesto Costano tutti Niente Cioè questo 40.000 crediti L'unico che costa tanto Ed è veramente bello Che proverò la prossima settimana È Buendia Buendia C'è una carta Che non lo so L'unica cosa è il body tap Che è stocchi Quindi è grosso È piazzato Per 1,72 Quindi non so De preciso Come si muove in campo Sicuramente tiene botta A livello di fisico Questo può giocare ovunque C'è una carta Senza senso A 400k Istinto Ci sta L'altro è Arons Che comunque sia Un buon terzino 3-3 Però dici Mi fa la verde Con Buendia Ero un ibrida Lo uso E il resto Tu mi fai uscire Sto Tony In sta carta 3-3 Bella Se siamo visti Ugo Ugo ti dirò In realtà Che è 30k E 40k Senza proprio Chi mette In inglese Qui più che altro Il discorso era Se t'eri fatto Quei Runei Secondo me Perché con Runei Quella carta speciale Fino di un'era Molto interessante Poi hanno fatto Pure sto Powell Però 3d skill Pucchi 3-3 E Poi hanno tirato fuori Vabbè Portiere Rolandese Ti dirò Potrebbe torna utile In realtà Certo 1-88 Mi sa Tanto che mai uso Mi tengo Wondersar Clark Harris Che questo C'ha 97 De fisica 1-88 C'ha 92 Di tiro Tutto bello Poi Va a vedere 3d skill Ok Mancino Però Capito Bene Mo' 4-4 4-4 4-4 E fa 2 risate Poi che sta Sto Welder Cioè non sono riuscito A fare un terzino Sinistro Inglese Hanno dovuto Tire a fare un terzino Sinistro Australiano Da 2-2 Una bomba Mulli Ingrante Cioè queste Ho tutte Le carte Per me Ma che cazzo Giusto Bunny Builder Lui L'ho pure Trovato 4-4 Questo Se vospen Ne costa 16.000 Crediti Ti dirò pure Super Sub C'è una carta Mezza onesta Jay pure C'ha 3D skill Quindi sta bene Indossato E poi questo Questo 1,96 Per 100 kg Questo Questo Non lo so Un mostro Ah e poi c'è Powell Degli obiettivi Che è lui Questo devo fare Perché è in 88 Riccardo Santos Raga Ma che roba è Ma che giocatore è Ma questo Ma questo va Provato assolutamente 1,96 100 kg Media medica Worker De Van Dijk Guarda che roba Ma guarda che bello Che è Lui Per me lui E lui Buendia Poi resto Tanto per Ultima cosa La squadra Che mi vorranno Fa Penso sia questa qui Esatto Una cosetta Ovviamente ci metto Due icone Perché non è che Linkano tutti Però Aron's e Buendia Si provano subito Golsan Fa il link Con Edward C'è deve Sta dentro Pope Magari prendo Leaf Che sto ancora A giocare Con base Da inizio gioco Van Bissaco Provo difensore centrale Parta a setta Ne hanno fatto il terzino Che devo fare uno S'arrange O Joker a sette Van Bissaca So Barnes punta Insieme a Johan Trequartista E Edward L'altra punta Mezzali Buendia E Zielinski E Sien Mediano Quindi Era per provare Un po' De cartine Super sub Ma farò lui E lui E poi magari Vedo pure Se riesco A inserire Un Valverde Magari Se escono I picco 81 Mi dice culo Lo provo Detto ciò Ragazzi Vi do un bacione Ci vediamo Come un salve Sul twitch E ciao Mua